Il Divulga Fiore, informazioni verificate. Una ricerca condotta dal Politecnico di Milano e pubblicata nel 2020 ha messo in luce le opportunità di un modello di offerta turistica basato su un concetto, il turismo senza fine. Di cosa si tratta? Grazie all'integrazione di identità territoriali e di tecnologia. Questo modello innovativo coniuga la narrazione, il raccontare storie, i soggiorni sul territorio e gli acquisti di prodotti tipici prima, durante e dopo la vacanza. In questa maniera lo studio auspica la creazione di una piattaforma di loyalty turistica nazionale per sostenere la domanda. Cerchiamo di capire di cosa si tratta nella pratica. I visitatori di ritorno nel nostro paese accumulano dei crediti partecipando a esperienze ricreative e culturali e acquistando servizi turistici e prodotti tipici prima, durante e dopo la visita. Questi poi si trasformano in vantaggi che si possono coniugare per esempio con dei viaggi extra e così via. Infine lo studio si è concentrato sugli ambienti turistici che diventano integrati con le attività lavorative. Se si deve lavorare da casa, chi lo ha detto che bisogna lavorare necessariamente nella propria città? Ci si può trasferire per un periodo di tempo proprio in una località turistica e allora il turismo si coniuga appunto con le attività del lavoro. E sempre a inizio 2020 in Italia è stato creato e nato un museo incredibile. Un museo tra virgolette. Ci troviamo in Sicilia a Sciacca e stiamo parlando del museo diffuso dei cinque sensi di Sciacca. Una novità che ha puntato sulla popolazione protagonista della narrazione di se stessa ed è nata grazie a un gruppo di imprenditori, di associazioni e di cittadini. Insomma i cittadini che si mettono insieme con esperti per migliorare la qualità della vita e la propria città anche agli occhi di chi viene da fuori. In questo modo Sciacca è stata denominata città dei cinque sensi, diventata questa denominazione una vera e propria brand. È stato creato un portale, si è amplificata la presenza sui social ed è presente questo museo anche su piattaforme internazionali specializzate con delle audioguide e delle applicazioni di realtà aumentata. Ed è possibile condurre e portare avanti delle esperienze laboratoriali direttamente sul campo. Il turismo viene migliorato e portato avanti soprattutto dai cittadini. Iscriviti al canale e attiva le notifiche.